Buongiorno, oggi siamo qui, ospiti di Alba Star, che ci concede gentilmente questa visita nel loro Boeing 37800 Next Generation, che è qui da un portale per il charter di ritorno per Taranto Perugno. Noi siamo contenti e orgogliosi di questa ospitalità, data della stima che noi certamente ricambieremo nel proseguo di una collaborazione che ci vedrà sicuramente nel futuro rilancio dello Stato. Siamo contenti e orgogliosi perché la compagnia è di livello elevato e vi faremo vedere all'interno di questo aereo che abbiamo avuto gentilmente anche la concessione di visitare anche per il nostro gestore aeroporto di Lugia, che si è dimostrato disponibile, a collaborare in una futura alleanza per poter collaborare insieme. Quindi, sentiteci perché vi faremo vedere questo splendido aereo che in realtà ha sostituito il 2757 ed è molto accessoriato, molto affidabile, ha una cura, direi, uno studio critici perché la compagnia, come tutti sanno, è una compagnia spagnola, però ci viene molto a volare da tanto, seguitemi. Siamo. Siamo. Ci facciamo. Siamo. 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 La sentitivolo, capocabina. La sentitivolo, nome? Capocabina Francesco, il mio nome è Francesco. Allora, noi accogliamo l'occasione per farvi vedere come è allestito effettivamente, adesso vedete i semi della Ternana perché fanno il charter per la Ternana. Ovviamente lo stile e la pulizia è impeccabile, questo è un aeromobile molto carietè, di 189 passeggeri. 189 passeggeri, pensate un po', pulitissimo. Ovviamente il nuovo sistema, mi metto la mascherina ma non ce n'è bisogno, il nuovo sistema di filtrazione che viene fatto dalle compagnie di questo livello attualmente prevede perché l'aereazione è per convenzione forzata e sono aeri molto sicuri perché aspirano in realtà la respirazione del passeggero per convogliarla in senso orizzontale a dei filtri EPA molto particolari che sono sempre nella pancia dell'aeromobile. e quindi questa è una compagnia che è molto curata in ogni aspetto anche igienico quindi ci siamo anche igienizzati prima di entrare ed è molto molto patente. come vedete, potete vedere che ci sono due file da tre posti, questa è la coda, con un'altra hostess, un salve, si lasciamo in un video e siamo contentissimi che avete scelto tanto, vi aspettiamo alla prossima, buon lavoro! grazie adesso andiamo a salutare il comandante prego 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 il comandante Hortensi allora lui è il comandante, il nostro comandante Hortensi della compagnia Alba Star e guardate che splendore questa cockpit del 737 800 noi vi auguriamo un buon lavoro comandante grazie ci dica qualche parola per i tarantini è stato un vero piacere atterrare nello scallo di Taranto siamo arrivati ieri da un volo con atterraggio effettuato dal mio collega Daniele De Pau e ora partiamo di nuovo con destinazione Perugia e speriamo di tornare presto con magari qualche progetto futuro più strutturato sull'aeroporto di Taranto noi vi ringraziamo della gentilezza e della sensibilità che avete avuto su Taranto e sicuramente ci vedremo presto è stato un vero piacere conoscervi e vedere questa meravigliosa terra grazie a voi un abbraccio buona serata